Si chiama Noah Yatt, è un giovane barista straniero che lavora al The Blind Pig Pub. E pensate che ha raccontato una cosa che lo ha visto, diciamo così, come il protagonista assoluto. Perché? Perché questo uomo Noah in pratica avrebbe gridato contro Max Verstappen, il famoso pilota di Formula 1. Ci sono stati degli attimi di tensione da come si legge sul web, poi lui lo ha riconosciuto. All'inizio però non pensava che era lui, che era Max Verstappen, e gli avrebbe detto Max mi dispiace di averti urlato, va bene? Ora, perché ha urlato? Perché in pratica stava per chiudere il bar. E era giunto il momento di chiudere la sua attività commerciale, va bene? Può capitare ovviamente di non riconoscere un personaggio famoso o noto come Max Verstappen, però sembra che forse Max si sarebbe trattenuto per qualche minuto in più, però lo stesso barista avrebbe urlato per favore andare verso l'uscita, invitando i presenti ad andare via perché doveva chiudere, va bene? Loro possono restare, gli viene detto. Lui chiede il perché, con torno indignato, e scopre che qualcosa lo ha ci distucco. Si tratta di Max Verstappen, il famoso pilota. Va bene? Ovviamente poi lui stesso si è scusato, Noah, con Max Verstappen, dicendo Max, nel caso in cui tu stessi guardando questo video di oggi, ebbene, ti chiedo scusa e mi dispiace di aver urlato. Ok, io vi ringrazio per l'ascolto, i commenti ovviamente sono piovuti, come uno bifragio, come un temporale, quando fa freddo, in pieno inverno. Il video termina qua. Iscrivetevi, commentate e ciao a tutti.